E invece sull'iPhone XR, quindi... I can't get the answer to that on HomePod M***a Siri, uno di questi giorni mi fai morire veramente E salve tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video Come vi avevo già anticipato ieri, Apple ha rilasciato iOS 12.1.1 al pubblico E finalmente perché era da un po' di tempo che vigevo un certo silenzio nella scena E venivano rilasciate le beta, ma nel campo delle release pubbliche Da un bel po' di tempo eravamo fermi alla 12.1 Ebbene come potete vedere ho già aggiornato il mio iPhone XS Box ad iOS 12.1.1 16C50 E vi posso dire che non solo finalmente questo aggiornamento introduce delle novità interessanti Non più i soliti bug fix a cui abbiamo fatto l'abitudine Ma ci sono anche altre novità di cui parlare Quindi non perdiamo tempo e cominciamo subito Prima di tutto sono stati apportati moltissimi miglioramenti all'interfaccia di FaceTime E Dio mio grazie Apple che ci hai lavorato Perché quelli che c'erano prima non li definirei bug Però erano rotture di scatole sostanzialmente durante la videochiamata Per farvi capire meglio Quella alla vostra sinistra è l'interfaccia FaceTime di iOS 12.1 E invece quella alla vostra destra è la nuova della 12.1.1 Apple finalmente ha aggiunto un tasto per passare dalla fotocamera posteriore alla fotocamera frontale E viceversa tramite direttamente qui lo spazio in basso Cosa che invece prima si poteva fare unicamente tirando su la tendina Premendo il bottone per capovolgere E poi riabbassare la tendina Era veramente fastidioso Soprattutto per persone come me che FaceTime lo utilizzano quotidianamente Ti faceva veramente venire il nervoso E un'altra funzione che era stata inspiegabilmente rimossa da FaceTime Che è ritornata adesso con la 12.1.1 È la possibilità di scattare live photos durante la videochiamata In iOS 12.0 e 12.1 tale peculiarità era assente È vero che si poteva comunque eseguire uno screenshot Però lo screenshot è statico Invece le live foto sono delle vere e proprie foto animate Che racchiudono circa 5 secondi come una specie di GIF Come vedete però è possibile scattare delle live foto in FaceTime Solo se anche il destinatario che stiamo chiamando Ha aggiornato all'ultimo iOS 12.1.1 Altrimenti non sarà possibile farlo Vi comparirà questo messaggio di errore Passiamo adesso a un'altra grande novità Che in moltissimi aspettavano Per chi non dovesse ancora saperlo Sull'iPhone XR Apple ha rimosso il 3D Touch Questo significa che il suo schermo non è in grado di capire Con quanta pressione lo stiamo toccando Però ho comunque introdotto l'Aptic Touch Che praticamente emula le caratteristiche del 3D Touch Attivandole però con un semplice tocco prolungato Di circa 3 secondi Quindi non importa se è forte o piano Tutti erano felici e contenti Tranne che per una funzione Apple non aveva introdotto tramite l'Aptic Touch La preview delle notifiche Quella che state vedendo ora su un iPhone XS tramite 3D Touch Che se vogliamo è tra le funzioni più importanti Ve la sto mostrando su un iPhone XS Perché con il 3D Touch funziona Come potete vedere ci permette di interagire con le notifiche Invece sull'iPhone XR Fino ad iOS 12.1 Questa era una delle pochissime cose che non si poteva fare Ebbene Oggi con iOS 12.1.1 Apple l'ha reintrodotta anche in questo caso Infatti ecco che tenendo premuto su una notifica Vi si apre il classico menu contestuale Dal quale potrete rispondere oppure cancellarla Molto comodo in questo caso di un iMessage Un Whatsapp Un SMS Vi apparirà proprio la conversazione E quindi potrete rispondere ai vostri amici Rimanendo nella schermata di blocco O comunque senza per forza dover interrompere Quello che stavate facendo E sempre parlando di iPhone XR iOS 12.1.1 introduce il supporto Alla doppia SIM su iPhone XS XS Max Per chi non lo sapesse infatti i tre nuovi iPhone presentati nel 2018 Sono dual SIM Ma dual SIM in un modo un po' particolare Nel senso che non hanno lo spazio fisico nel carrellino per inserire due nano SIM A parte una variante molto particolare di iPhone in Cina Ma quelli distribuiti in tutto il resto del mondo Hanno spazio per una SIM fisica E poi una seconda SIM virtuale Chiamata eSIM Bene la seconda SIM virtuale era stata presentata e annunciata Ma non era supportata fino ad iOS 12.1.1 Adesso lo è Ovviamente fate attenzione a non confondervi Il fatto che adesso sia supportata dal sistema operativo Non significa che possiate utilizzarla Perché prima dovrà essere supportata anche dal vostro operatore O comunque la seconda SIM virtuale Ve la dovrete fare con un operatore che supporta questa funzione In Italia quelli più vicini al rilascio sono Vodafone e Iliad Però un po' tutti dovrebbero rilasciare entro fine anno Perché adesso anche il Google Pixel 3 italiano necessita di questa funzione Quindi si devono un po' tutti dare una mossa Poi lo sappiamo come sono queste cose Rilascio a uno rilasciano tutti Quindi inizio del 2019 anche in Italia dovremmo avere le doppie SIM sugli iPhone di nuova generazione Queste erano le principali novità introdotte da iOS 12.1.1 Un aggiornamento indubbiamente importante considerando anche il peso di 400 MB Per quanto mi riguarda si sarebbe potuto benissimo chiamare iOS 12.2 Vista la mole di novità che introduce E prima di chiudere volevo rispondere a una domanda che ancora qualcuno si ostina a farmi Ma il jailbreak? Sembra quasi una battuta oramai Ragazzi Il jailbreak È morto È una verità triste ma va accettata Tutte le cose belle finiscono Per carità anch'io sono nostalgico tant'è che continuo a tenerlo su uno dei miei iPhone X Che non ho aggiornato da iOS 12 Ma riconosco che ormai è uno stagno È un'acqua stagnante Tutto è lasciato a metà al caso Molte repository sorgenti sono state abbandonate Persino le più famose E non so se lo sapete ma persino CDA stesso È probabile che non riceverà più aggiornamenti Senza contare che non si vede un jailbreak serio Completo dai tempi di iOS 9-10 Quindi 2-3 anni Ad ogni modo anche se pubblicamente non c'è nessun utente Nessuno sviluppatore con intento di rilasciare pubblicamente un jailbreak Guarda te che sorpresa Ci sono svariati exploit di versioni inferiori di iOS 12 che sono già pubblici E in particolare funzionano su iOS 12.0 e 12.0.1 E sì mi sto riferendo a quest'articolo pubblicato sul Security in Blogs che evidenzia un metodo per eludere la sandbox di Safari Su iOS 12.0.1 È qui pubblico E secondo molti utenti questo exploit potrebbe essere un'ottima pista di lancio per quello invece che possiede Pangu Team di Eohid Family Ecco perché se effettivamente sperate in un jailbreak la versione più consigliata su cui rimanere è la 12.0.1 Quindi non solo non aggiornare alla 12.1.1 che è uscita due giorni fa ma nemmeno alla 12.1 Poi ci sono delle voci secondo le quali tra qualche settimana verranno rilasciati dei nuovi exploit per iOS 12.1 Ora che non è più l'ultima versione Però generalmente se aspettate un jailbreak la regola è non aggiornare mai Restare dove si è e in generale sulla versione più bassa possibile Però ragazzi non ci sperate troppo Perché anche se tutti gli exploit necessari per un jailbreak completo venissero rilasciati Non ci sarebbe comunque qualcuno intenzionato a metterli insieme a scrivere un tool rilasciabile pubblicamente Un programma per eseguire il jailbreak Per una community che un tempo era di milioni di persone E adesso secondo me conta qualche decina di migliaia scarsa Se invece non ve ne frega niente del jailbreak come al 99% ormai purtroppo delle persone Aggiornate all'ultimo 12.1.1 Che vi aggiunge queste novità di cui abbiamo parlato all'inizio E in generale più aggiornati si è più sicuri si sta Detto questo ragazzi io spero che abbiate apprezzato questo video flash Per quanto riguarda le novità di iOS 12.1.1 e il mondo del jailbreak Se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network In particolare Instagram come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione Cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video E invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo in un prossimo video E noi ci rivediamo in un prossimo video E noi ci rivediamo in un prossimo video E noi ci rivediamo in un prossimo video